Dopo averne sentite di tutti i colori è venuto il momento di fare chiarezza e così abbiamo coinvolto gli interessati che si sono prestati in maniera simpatica e utile per conduttori, telecronisti e commentatori costretti a cimentarsi con la pronuncia dei nomi e dei cognomi degli stranieri dell'Enel Brindisi con risultati variabili e talvolta opinabili se non impossibili. E poiché è capitato di sentire la conduttrice del TG regionale dell'emittente ufficiale parlare di Massimo Bulleri abbiamo pensato di coinvolgere in maniera divertente anche qualche italiano dal roster alla dirigenza, signore e signori la vera originale indiscutibile pronuncia dei nomi e dei cognomi dei giocatori dell'Enel. Alliday Aminu Jerome Dyson Jerome Dyson Abbiamo un dubbio, ma è leggio o leggio? No, è leggio, leggio. Sicurissimo. Ron Lewis Ron Lewis My name is Michael Snare Michael Snare My name is Miroslav Dodic My name is Miroslav Dodic Follarin Campbell My name is Follarin Campbell It's spelled F-O-L-A-R-I-N Last name Campbell C-A-M-P-B-E-L-L Il capitano, ma è Bulleri o Bulleri? Dai ragazzi, non scherziamo, Bulleri Infine il presidente, ma è Marino o Marinò? No, dai, ci sono tutti e due, va bene così. No, dai, ci sono tutti e due.